È una legge che va verso il buonsenso, se possiamo dire. Ecco, questa è la cosa importante. Richiesta dal basso, quindi una legge a favore dei cittadini, che con delle piccole difformità oggi non possono andare a vendere il proprio appartamento perché senza la congruità urbanistica non possono andare a rogitare. Esprime un giudizio positivo il presidente Ance Pescara Chieti Antonio Dintino sul decreto Salva Casa, approvato ieri in Consiglio dei Ministri. In sostanza la legge regolarizza piccole difformità edilizie e abusi minori. Non corretto quindi, secondo i costruttori, parlare di sanatoria. Dicevo prima il buonsenso, mi ripeto, va a sanare soltanto quei piccoli abusi. Dove c'è il vincolo pesaggistico, dove ci sono gli ecomostri, dove ci sono delle difformità diciamo così speculative, non si sana assolutamente niente. Qua si sana soltanto i piccoli abusi come può essere una piccola veranda, piuttosto che due metri in quadro in più di un appartamento, piuttosto che un tramezzo o una finestra in più. Ma quello che si aspettano i costruttori è la nuova legge per la rigenerazione urbana e la nuova legge per il riordine dei super bonus e il nuovo testo unico dell'edilizia. In attesa dei decreti attuativi che puntualizzeranno meglio la legge e gli interventi, Lance stima che le domande che verranno presentate in Abruzzo saranno decine di migliaia. Ci aspettiamo dalle 50 alle 100.000 domande. Molto probabilmente potrebbero essere anche di più, stimiamo in un 10-15% di tutto il costruito. Ma questo andrebbe anche un po' ad ingolfare l'attività del comune? Certamente i comuni si devono organizzare per espletare e dare seguito a tutte le domande che si andranno ad accumulare.